buonasera signori ciao a tutti ragazzi ben trovati e benvenuti al secondo episodio vi indovina la canzone dalla frase ok perché avevamo registrato non lo so un video anche questo è andato perso quindi il secondo episodio di cosa facciamo in questo video dobbiamo indovinare dalla frase che ci viene detta la canzone inizio io va bene sfido di andrea la frase guido veloce cambio corsia ma non per arrivare a te se devo scalare la tua gelosia 58 anni poi chiedermi un indizio di canta un maschio una femmina un maschio hai capito non la so non la sai ti arrendi e barrio di mammut cercami nel bar come si meno e quindi e quindi andrea dice la domanda a lorenzo la frase va la frase si mi sorridevo e mi teneva stretto stretto adeguose amico amico a testa lorenzo dolorosa aspetta secondo me e io vagabundo questo piccolo grande amore è questo piccolo grande amore niente più vero ok di questo niente più allora la mia frase è nebbia e nebbia e locali a cui dai del tu non ho capito e nebbia e nebbia e locali a cui dai del tu è una canzone che cantiamo molto spesso durante le nostre serate alcoliche butta di ieri certe notti e nei miei locali un po' di colale agna farla tu è così che pensa la versione spagnola amerea stai bene la mia frase è una catena ormai una catena ormai ah è facile ma la canzone non mi viene un motivo oh ma tu sei pazzia la tengo qua che hai 10 secondi non ce n'avevate 10 anni l'inizio nonno aglio allora questa canzone è dedicata a un cantante a chiedere questa canzone dedicata a un cantante magari è dedicata a napoli ah forse a giù bastiani fermi tutti lucio dalla caruso brava brava ma io come veneva è una cosa impressionante brava finalmente hai vinto una ciale vinci una controfigura di sto pazzo che ti arriva a casa e potrei tirarti in un occhio a pensare a come a dire cosa ho vinto grazie per per tutto quello che fai da quando sei piccolissimo ok ciao va bene ragazzi questo video termina qua ci vediamo un prossimo episodio andremo vi divido con l'assato però così è che voglio buona serata signori lasciate la campanellina lasciate un like condividete il video con i vostri amici andate su Instagram mettete segui a carno cracco e portate a spasso il panico buona serra ho un prossimo episodio di Avanti Un Altro